Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. La tragica morte di Giulia Cecchettina ha profondamente sconvolto l'intera comunità, e persino personaggi famosi si sono espressi sui social per condividere il loro cordoglio. Tra loro, Adriano Celentano ha scelto di rompere il silenzio in modo unico, come suo solito. In questi giorni, numerosi gesti di commemorazione sono stati compiuti in onore di Giulia, dalla pausa di silenzio di Elodia al minuto di rumore all'Università di Padova. Adriano Celentano ha sorpreso tutti con un gesto straordinario, la riscrittura dell'Ave Maria in memoria di Giulia. Il celebre artista ha reinterpretato il testo in un modo che ha colpito profondamente chiunque lo abbia ascoltato. La sua versione riflette un omaggio speciale alla giovane scomparsa. Ave, o Maria, piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi uomini assassini, adesso e nell'ora della nostra morte. Questo gesto ha aggiunto un tocco unico al ricordo di Giulia Cecchettin, dimostrando come la sua tragica partenza abbia toccato profondamente le persone di ogni cerchio sociale.